Ivan Costantini, a capo di un polo civico composto da sei liste, vince al ballottaggio contro Tribuiani ed è sindaco di Giulianova. Con la sua vittoria si delinea anche il nuovo Consiglio Comunale, che avrà tanti volti nuovi con tre donne. Vediamolo nel dettaglio. Dieci in totale consiglieri di maggioranza. Della lista Costantini sindaco entrano Paolo Bonaduce, Giulio Garzarella e Lidia Albani. Della lista Verso, Federico Taralli e Simone Paesani. Della lista Giulianova Turismo, Paolo Giorgini e Marco Di Carlo. Katia Verdecchia di Giulianova in movimento e Antonella Guidobaldi per l'altra Giulianova. Sei invece consiglieri di opposizione. Pietro Tribuiani, Gianni Mastrilli e Matteo Francioni per la Lega. Franco Orboretti, candidato sindaco e Fabio Di Dionisio, cittadino governante. E Pietro Carrozzieri di Giulia Viva. Un consiglio comunale destinato comunque a cambiare in poco tempo, con la nomina degli assessori, e la conseguente entrata dei primi dei non eletti. Per quanto riguarda gli assessorati, i rumors danno in pole position Paolo Bonaduce all'urbanistica, Paolo Giorgini al turismo, Katia Verdecchi all'istruzione e Lidia Albani al sociale e pari opportunità. Paolo Giorgini al turismo, Katia Verdecchi all'istruzione e Parisi all'istruzione e Parisi all'istruzione e Parisi all'istruzione. Paolo Giorgini al turismo, Katia Verdechi all'istruzione e Parisi all'istruzione e Parisi all'istruzione e Parisi all'istruzione.